Coronavirus dalla Regione sostegno alle rivendite di giornali. Ancora un provvedimento dal Governo musulmane c'è a sostegno delle imprese in difficoltà a causa del coronavirus. 5 milioni di euro andranno alle agenzie di distribuzione, ai servizi di stampa, alle rivendite di giornali. Il Presidente della Regione ha firmato il decreto che attua le disposizioni previste dalla legge di stabilità nell'ambito degli interventi economici per il settore dell'editoria a seguito dell'emergenza pandemia. Il documento dotato sul proposto dell'assessore all'economia Gaetano Armao destina il 60% alle edicole e la parte restante alle agenzie di distribuzione. L'istruttoria delle domande verrà gestita dall'IRFIS, la banca della Regione che cura la gestione del Fondo Sicilia. Potranno ottenere le agevolazioni sotto forma di finanziamenti a fondo perduto le imprese che attualmente operano nell'isola e che esercitavano già l'attività nello scorso maggio quando è entrata in vigore la finanziaria regionale. Il decreto individua anche i codici di classificazione a teico relativi alle attività primarie o secondarie consentite per la partecipazione ai bandi e i limiti massimi di aiuto concedibili. Il mondo dell'editoria nel suo complesso evidenzia il Presidente Musumeci sta attraversando da diverso tempo una crisi galoppante aggravato dalla pandemia in corso. Ecco perché oltre ai 10 milioni di euro già stanziate per le imprese editoriali di tutti i settori, quotidiani e periodici, cartacei, siti web, tv e agenzie di stampa, era doveroso prevedere un ristoro anche per chi consente che quei prodotti possano arrivare nelle case dei siciliani.